Cresce il numero dei contagiati anche nel Golfo di Policastro, tra i nuovi infetti, non solo giovani, ma anche persone già vaccinate con entrambe le dosi. Dopo Sapri e Vibonati, a non essere più covid free, è San Giovanni Appiro. L'ufficio postale del capoluogo è stato chiuso dopo la positività di un dipendente residente a Sapri. Dopo l'intervento di sanificazione, è stato riaperto. Tre contagiati sono stati riscontrati nella casa comunale, positivi tre volontari del servizio civile. Ora si è in attesa dell'esito dei tamponi effettuati sui contatti di caso, dai quali potrebbero venire fuori altri contagiati. Il sindaco Ferdinando Palazzo ricorda che il vaccino è l'unico strumento per fermare il contagio. A Sapri i positivi al covid per il momento sono cinque. Nel comune di Vibonati sono saliti a 22, ma ci sono ancora tamponi da processare. Intanto per il 6 agosto è stato programmato un open day per la somministrazione di 407 prime dosi di Moderna. Sono riservate ai residenti del distretto sanitario Sapri-Camerota, di età compresa tra i 18 e i 39 anni. Le vaccinazioni saranno effettuate presso l'auditorium comunale di Sapri. È necessario prenotarsi all'email posapri.dirsan-aslsalerno.it Tra i comuni del Vallo di Diano, alle prese con la nuova ondata di contagi, c'è Sassano, dove si registra il maggior numero di infetti. Sono saliti a 25. Per tentare di bloccare la diffusione del virus, il sindaco Domenico Rubino ha firmato l'ordinanza con cui vieta fino alla mezzanotte di domenica prossima, 8 agosto, gli eventi musicali e gli spettacoli sia all'aperto che al chiuso e l'accesso nella villa comunale a Silla. A Vallo della Lucania, invece, il sindaco Antonio Aloia ha firmato l'ordinanza antimovida. I locali, dal lunedì al giovedì, dovranno chiudere entro l'1.30, mentre dal venerdì alla domenica potranno stare aperti fino alle 2.30, vietati anche gli eventi musicali all'aperto. Di vieti che resteranno in vigore fino al 31 ottobre, salvo proroga o revoca. Il sindaco di Santa Marina, per il secondo anno consecutivo, ha vietato lo svolgimento della Fiera della Madonna dell'Assunta del 14 e 15 agosto. Anche qui ci sarebbero diversi contagiati. A Celle sono saliti a 5.